Ciao e benvenuti nel mio studio. Oggi parliamo di fotografia, fotografia di oggetti di dimensioni diciamo piccole, ridotte, quelli che noi normalmente mettiamo in vendita oppure desideriamo mostrare. Quindi mettiamo in vendita ad esempio su Shopify, su eBay, su Etsy oppure sui social Instagram, Facebook eccetera eccetera eccetera. Quindi oggetti perché specifico di piccole dimensioni? Perché il ritratto e la fotografia di un oggetto in una data situazione per la vendita o l'esposizione sono due cose completamente diverse. Vorrei oggi condividere con voi quello che ho imparato in undici anni di Etsy. Etsy è una grande nave scuola che ti forza a superare i tuoi limiti anche quando si tratta di fotografia. Quello che vorrei dirvi non riguarda tanto il mezzo. Io ho utilizzato per anni, quasi sempre direi, una macchina digitale, un paio di macchine digitali e vi devo dire che facevo fotografie anche belle, assolutamente belle. Da poco tempo ho una reflex e devo ancora prendere mano sulle caratteristiche di questo attrezzo. Quello che ho imparato è diverso. Riguarda il modo in cui l'immagine deve comparire, apparire, essere protagonista nella fotografia. Ho imparato altre cose e vorrei suggerirle se siete principanti ma anche no perché può anche essere che alcune cose non le abbiate pensate come non le penso io e vado spesso a imparare dagli altri quello che hanno a loro volta imparato. Partiamo da questa semplice cosa. Allora le pareti bianche. Forse avrete notato che il mio studio le pareti bianche. Ci sono più motivi per cui ho deciso di ridipingere tutto di bianco e un motivo importante è legato alla fotografia. Se sono obbligata a fotografare all'interno, però vi anticipo che di solito lo faccio all'esterno, ne parlo tra un attimo, se devo fotografare all'interno il colore bianco delle pareti non è un ostacolo. Ecco se non favorisce, perché in realtà poi conta la luce, deve essere un gioco di luci. Però ecco non è un ostacolo alla fotografia. Mentre mi troverei molto più in difficoltà in un ambiente molto colorato con oggetti tanto diversi, colori diversi, guai se avessi una parete a fiori eccetera. Personalmente parlo per la mia esperienza. Diventa un po' complesso, soprattutto quando indosso gli oggetti e quindi devo fotografare per esempio un paio di orecchini eccetera. Quindi mi troverai in difficoltà nella fase dell'editing e comunque nello scattare. Trovo che la parete neutra bianca sia un grande aiuto. Sono fornita anch'io di luci, di ogni genere, di ombrelli, di questo genere di cose. Però, 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 trovo molto utile, molto facile, molto più facile utilizzare la luce naturale e questo lo dicono anche i fotografi. Secondo me la luce naturale è imbattibile, motivo per cui il mio piccolo set fotografico è allestito all'esterno. Quindi io ho questo bel foglio di vinile, è quello che uso ultimamente, ma ho utilizzato anche altri materiali su cui fotografo gli oggetti piccoli. L'esposizione di questo balcone che utilizzo, che è molto stretto ma anche tanto utile, è un'esposizione a nord. Quindi a nord la mattina è il momento ideale per fare fotografie. È quello che ho scoperto il pomeriggio, non è la stessa cosa, la luce è peggiore, però la mattina è veramente l'ideale. Quindi io mi sento di suggerire di fotografare, se potete, con un'esposizione a nord la mattina. Naturalmente evitate di fotografare alla luce diretta del sole. Le fotografie vengono male, bisognerebbe essere organizzati in un modo molto complesso. Ma perché complicarsi la vita? Il foglio di vinile è molto utile, ha solo qualche difetto, si rovina un po' facilmente e poi quando tu lo pulisci diventa elettrostatico. Quindi qualche peletto lo cattura quella. Però io ho anche utilizzato spesso la pietra che adoro moltissimo, i sassi che uso come oggetti di scena o anche per sorreggere gli oggetti, il legno delle tavole di legno, perché comunque voglio dare l'idea che i miei oggetti sono oggetti artigianali, a volte rustici, semplici, concreti. Questa idea di semplicità deriva anche dal modo in cui fotografo gli oggetti e dagli oggetti di scena. Parliamo un attimo degli oggetti di scena. Ho visto fotografie bellissime ambientate in situazioni complicate, quindi con background, oggetti di riempimento, collezioni, oggetti di ogni genere, per mettere in evidenza il protagonista della fotografia, che poteva essere qualsiasi cosa. Mettiamo una collana, rimaniamo nel mio campo di lavoro, mettiamo una collana. Però non è facile, guardate, non è facile creare un unicum, creare una fotografia armoniosa in questo modo. Io consiglio sempre la semplicità. Se vogliamo che l'oggetto protagonista sia quello che abbiamo realizzato, quello che abbiamo da donare, da mostrare, cerchiamo la semplicità. Quindi poche cose, possibilmente sempre lo stesso background, lo stesso sfondo, perché poi la persona che verrà a visitare la nostra pagina, che possa essere, può essere sia la pagina di vendita, ma anche semplicemente di esposizione, deve vedere che c'è un unicum non solo all'interno della stessa fotografia, quindi una fotografia armoniosa con un primo piano importante. Ci deve essere un unicum in tutta la struttura della pagina. Il catalogo, l'elenco di oggetti che noi esibiamo, deve avere un'armonia, deve avere un filo, anzi più fili conduttori che possano richiamare appunto l'uno all'altro. Questo generare uno stile unico, personale, individuabile, che faccia in modo che una persona venga a cercare un oggetto, veda il mio oggetto al di fuori del contesto e dica, ah sì ma questo è un oggetto di atelier mediterraneo, lo riconosco non solo da come fatto, ma dalla fotografia. Questa cosa è molto importante e deriva proprio dalla mia esperienza con Etsy. Se voi guardate la mia pagina Etsy, ma anche Shopify, insomma, perché le foto sono le medesime, se voi guardate c'è sempre uno stesso stile, una stessa composizione e uno stesso modo di fotografare. Parliamo del modo di fotografare. Come vi dicevo non entro in questioni tecniche perché secondo me si possono fare eccellenti fotografie anche con macchine digitali e senza utilizzare macchine di chissà quale prezzo e valore. Attenzione all'effetto macro. All'inizio io facevo fotografie molto da vicino. Ricordo ancora che fotografavo gli orecchini ad una vicinanza tale che si vedeva la pelle dietro le orecchie e la pelle era secca. Ho scoperto di avere la pelle secca dietro le orecchie, ma era inintellegibile quella fotografia perché non si capiva bene che cosa stavo fotografando. Praticamente guardando un'immagine del genere si era troppo dentro l'immagine e quindi non era definita, l'oggetto era incomprensibile. Quindi la macro fotografia sì, ma fino ad un certo punto, non esageratamente da vicino. Contemporaneamente è utile avere anche una fotografia ad una certa distanza per avere quell'immagine d'insieme che è fondamentale per chi deve scegliere da una fotografia. Non dimenticate se si tratta di un oggetto indossabile o anche da appendere ad una parete, perché no, non dimenticate di indossarli o di avere comunque un supporto che possa aiutare chi guarda ad immaginare come sia quell'oggetto indossato. Ottimizzazione del lavoro, dei tempi, delle risorse, delle energie e di tutto quanto. Avere un piccolo angolo dedicato alla fotografia aiuta moltissimo. Se potete anche già predisporlo con alcune cose fondamentali, ancora meglio. Io ho il mio foglio di venile sul balcone, però quando so che devo fotografare mi preparo in anticipo il giorno prima, le batterie, carico tutte le batterie, quelle che devono essere caricate, mi preparo già il cavalletto alla misura giusta. Se potete avere un angolo quindi predisposto, magari proprio con tutto, con una light box, quello che volete, allora è perfetto. Questo ottimizza molti tempi e devo dire anche lo spazio. Se avete molti oggetti da fotografare o pensate che ne avrete la prossima settimana per esempio, dovete fare altre fotografie eccetera, dedicate un giorno specifico alla fotografia. Raccogliete più oggetti, più cose e fotografate tutto insieme. È un po' faticoso, però questo è un modo di ottimizzare il tempo. Poi passerete all'editing mano a mano che avrete la possibilità, se volete anche tutto insieme naturalmente, oppure mano a mano che metterete in vendita un oggetto. Per quanto riguarda i programmi di editing, anche qui i programmi sono molto utili, vi aiutano a correggere, migliorare, tagliare le fotografie, insomma modificarle almeno nell'essenziale. Ovviamente se siete bravi nell'uso di photoshop non ho nulla da dirvi, ma se preferite usare un programma più facile, più così sbrigativo a prova di persona non pratica, insomma, ce ne sono tanti molto 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 utili, fatti bene, vi assicuro, anche nella versione gratuita. Alcuni di questi programmi infatti sono utilizzabili a pagamento. Io utilizzo PicMonkey e devo pagare 10 euro al mese per utilizzarlo. Però davvero è un programma eccezionale, fornisce tutto, tutto quello che serve per rendere bella una fotografia. Poi ha anche dei black canvas già della misura, della risoluzione giusta, perché non so, una fotografia possa essere messa su Instagram, oppure su Facebook, oppure su un altro social, sito, per la stampa, per la non stampa, poi ci sono emoji, ci sono testi, c'è la modifica, ci sono gli effetti, c'è tutto. Quindi un programma di questo tipo, sì, mi sentirei di consigliarlo. Ricordate che c'è anche l'abbonamento gratuito, che potete testare, anzi testatelo prima di pagare dei soldi. C'è anche Canva, altro programma che non ho mai usato, ma credo che sia all'incirca come PicMonkey. Poi ce ne sono tantissimi altri. Questi miei trucchi imparate in dieci anni, vorrei raccontarvene tanti altri, ditemi se avete i vostri trucchi, perché qui bisogna mettere insieme tutto il nostro sapere. Grazie, grazie se mi avete seguito fin qui, anche se non mi avete seguito fin qui. Mi raccomando, mettete un mi piace, per me è fondamentale, perché questo canale cresca sempre di più. Vi abbraccio e vi rimando al prossimo video. Ciao!